sulla battuta Falanga e Narcisi va Narcisi 1 a 0 la sblocca subito il bvb boni si fa vedere Falanga sulla sua fascia per riesce a servire Narcisi che difende palla su Pedrazzini ancora Narcisi tenta la botta la palla arriva a Falanga e carica il destro Falanga parata qui comodamente calcio d'angolo qui per il che posta salgono le torri rimane dietro Mercadanti e Fabrizio batte corto qui Mastropietro che può trovare la conclusione tiro fuori prega in aria per il che posta parte Mastropietro in corsa ma Mastropietro il tiro Murato ancora Mastropietro il tiro pareggio del che posta Mastropietro rascherati da De Angelis sulla battuta Falanga dentro solo Pozzi e Narcisi si avvicina Toskey largo invece Boni che entra ora parte Falanga il tiro largo portaggio per il bvb che può contare a gestire il pallone interviene benissimo Mastropietro in anticipo su Toskey parte Mastropietro sulla fascia la mette dentro Gredarsson di tacco non va di poco qui con della portella Narcisi ripeto provo a ripenarla poi Toskey si vede la pressing di Gerardi ancora Toskey prova entra in aria Toskey di poco fuori a lato pressato cerca di liberarsi qui il bvb che perde una palla sanguinosa può ripartire Gredarsson ancora Gredarsson in sovrapposizione Mastropietro lo vede il numero 10 con il sinistro 2 a 1 che posta Toskey allarga perde il pallone può ripartire Gredarsson ancora Gredarsson puntatenti Gredarsson entra in aria ancora Gredarsson e il tiro di poco fuori Boni può andare lungo su Falanga interviene Pedrazzini Mastropietro poi Gredarsson può allarangare su Fringuellotti mi diceva ancora da Mastropietro ma lui su Fringuellotti che prova il tiro chiede il movimento da parte dei suoi si può vedere in mezzo Toskey pressato da Gerardi ancora Fabiano Gerardi va in pressing forte recupera il pallone ancora Gerardi dentro per Gredarsson occasionissima qui per il che posta apre il pallone il capitano va ancora Narcisi che viene qui Pedrazzini in maniera regolare quindi contro piede Gerardi l'arbitro lascia scorrere tra le proteste dei giocatori Boni prova la conclusione tiro alto Gredarsson sponda verso Mastropietro e può entra in aria Mastropietro al tiro calcio di rigore calcio di rigore per il che posta Mastropietro contro Paolacci a parte Mastropietro va con il sinistro la parola di Paolacci e poi Mastropietro 3 a 1 poi Falanga Pozzi che porta il sottato sul 4 a 2 ragazzini ora può sperare qui il BVB dovrà alzare sicuramente il pressing Pozzi Falanga si gira ancora Falanga cerca entra in aria Falanga la parata di De Angelis addenti arriva verso Boni cross dentro interviene Fabrizio è solo Mastropietro e può partire la prende ancora Mastropietro Mastropietro entra in aria Mastropietro 5 a 2 lo sapete voi non vi preoccupare voglio vincere non vi preoccupare De Angelis è lungo a cercare Fabrizio la palla passa Fabrizio entra in aria Fabrizio 6 a 2 che posta 48 dovrebbe finire a 50 3-4 minuti Rossetti parte sulla fascia ancora Rossetti ora arriva dietro a Falanga parata di De Angelis ti dà Paolacci tutti a coprire l'aria solo Narcisi è rimasto la mia campo ospite parte Pistella il tiro la parata di Paolacci che si distende e la mette in angolo grazie a tutti per la parata